Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale e oggi facciamo un altro aggiornamento relativo all'epidemia del coronavirus che in Cina sembra aver raggiunto il picco. Il numero dei decessi è rallentato ed è al minimo da tre settimane. In Italia invece le vittime sono salite a ben 11 ed erano tutte più o meno gravemente malate. Sia il governo che le regioni e in alcuni casi anche i comuni hanno varato una serie di provvedimenti per fronteggiare il contagio. Ma vediamo in ordine cronologico tutte le novità e i fatti accaduti nella giornata odierna. Partendo dalle 8.01 di questa mattina, dove in Cina rallenta il numero dei decessi, l'epidemia di coronavirus in Cina sembra aver raggiunto il picco. Il bollettino giornaliero indica 52 decessi nelle ultime 24 ore contro i 71 della vigilia, il numero più basso di vittime da oltre tre settimane. L'epidemia è invece in forte espansione in Corea del Sud e sono stati segnalati i primi quattro casi in nuovi paesi, che sono Austria, Svizzera, Croazia ed Algeria. Mentre alle 8.03 di questa mattina c'è stato un possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, il premier giapponese esorta le principali associazioni sportive, culturali e associative del paese, a posticipare di almeno due settimane l'organizzazione di eventi che prevedono il raduno di grandi masse per contenere il rischio di un'ulteriore espansione del coronavirus. Ore 8.26. La Russia sconsiglia i viaggi in Italia. L'autorità per la sicurezza dei consumatori ha esortato i russi a evitare di recarsi in Italia e in Corea del Sud, fin quando la situazione epidemiologica non si sarà stabilizzata. Mosca aveva già sconsigliato i viaggi in Cina, ovviamente. Mentre alle 8.34, primo caso in Brasile. Si tratta di un uomo che è stato in Italia per un viaggio di lavoro il 21 febbraio scorso. È in buone condizioni cliniche e non ha bisogno di essere ricoverato in ospedale, rimanendo in isolamento respiratorio per i prossimi 14 giorni. Il Brasile è il primo paese dell'America Latina a registrare un caso di coronavirus. Ore 9.00 di questa mattina. In Italia due bimbe positive. Finora sono state contagiate due bambine. Una di 4 anni è di Castiglione Dadda e il contagio, probabilmente, è avvenuto all'ospedale di Codogno, mentre l'altra di 8 anni è la nipote del primo paziente diagnosticato a Limena, in Veneto, ed è probabilmente stato lui a contagiarla. Entrambe stanno bene, la prima ha una leggera forma influenza e la seconda è asintomatica. Ore 9.02, il ministro Azzolina, gli studenti non rischiano di perdere l'anno. Il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato che non c'è nessun rischio che i nostri studenti perdano l'anno. Le scuole, nella loro autonomia scolastica, potrebbero anche prevedere di allungare l'anno, ma non sarà necessario, perché abbiamo attivato una task force per garantire la didattica a distanza. Possibile decreto ad hoc, anche per rimborsare genitori e agenzie per le cite cancellate. Ore 9.15. Rilevati 115 nuovi casi in Corea del Sud. In base agli aggiornamenti forniti dalle autorità sanitarie, ora il totale delle infezioni nel paese è salita a quota 1261, purtroppo. Ore 9.20. Disney World mette in quarantena sei dipendenti italiani. In Florida, appena messo in quarantena sei dipendenti italiani del parco. Si tratta in gran parte di giovani che lavorano come camerieri, maschere, eccetera, appena rientrati da Milano. Non possono uscire da uno degli edifici della foresteria e viene portato loro il cibo. Ore 9.21 di questa mattina. Una turista italiana di 56 anni del Friuli Venezia Giulia è morta la scorsa notte in un resident in Austria. Il medico del pronto soccorso non ha escluso un caso di coronavirus ed ha effettuato un tampone. Il residence è stato chiuso e gli ospiti non possono lasciare l'edificio. Saranno anche loro sottoposti a controlli. Le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, stanno ricostruendo gli spostamenti della donna. Ore 9.59. Gallera in Lombardia, 259 contagiati, 4 sono minori. L'assessore a Welfar, Giulio Gallera, ha dichiarato che i minorenni risultati positivi sono 4 in Lombardia. Una bambina di 4 anni, ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso. Ore 10.08. I casi in Veneto oggi sono saliti a 58. Lo rende noto la Regione Veneto. Sono aumentati di 13 unità. La novità riguarda l'inserimento nel report di un nuovo cluster del Padovano, quello di Limena che registra 7 casi, uno in più di ieri. Nessun nuovo contagio tra la popolazione di Voe e Uganeo, il focolaio del virus, che ha 33 positivi. Ore 10.19. Di oggi, il primo morto francese. Si tratta di un sessantenne deceduto nella notte a Parigi. Le autorità hanno confermato il decesso. Il secondo nel paese dopo la morte di un turista cinese arrivato dallo Yubei. Ore 10.24. Turista bergamasca a Palermo. Positiva. È risultata negativa tutta la comitiva che viaggiava a Palermo con la turista bergamasca a sessantunenne. Risultata positiva. La comitiva di amici è in quarantena, ovviamente in un albergo. Ore 10.38. Londra esclude lo stop ai voli. Londra non intende bloccare a causa del coronavirus i voli da e per l'Italia, su cui attualmente si spostano 3 milioni di turisti britannici, considerandola una misura controproducente. Ore 10.42. Due nuovi casi a Legnano, nel Milanese. Due persone sono ricoverate all'ospedale di Legnano. Dopo essere risultate positive al tampone per il coronavirus, si tratta di un libero professionista di 62 anni e di un medico di 61 che lavora all'ospedale di Alzano Lombardo, Bergamo. I due, che sono parenti, risiedono a Rescaldina, nel Milanese. Mentre oggi, alle 10.54, quattro nuove morti in Iran. Altre quattro persone che avevano contratto il coronavirus sono morte in Iran. Il totale delle vittime confermate nel paese sale così a 19. Ore 11.03. 19 operatori San Martino in isolamento. 19 operatori del pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova sono stati posti in isolamento fiduciario precauzionale. Lo rende noto l'ospedale. Ore 11.22. Secondo caso a Firenze. C'è un nuovo caso di positività al coronavirus emerso a Firenze. Si tratta dell'amico dell'imprendatore già ricoverato. Ore 11.50. Sei minori positivi in Lombardia. Sono sei i minori positivi al coronavirus in Lombardia. Due dei quali sono in ospedali a Sol Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo. I casi sono quelli di una bambina di 4 anni, due bambini di 10 e un ragazzo di 15. C'è poi il giovane di 17 anni di Val di Dentro ora ricoverato all'ospedale di Lecco le cui condizioni sono in miglioramento. Una compagna di scuola dell'Istituto Agrario di Codogno sarebbe inoltre risultata positiva. Quattro minori sono legati alla zona rossa intorno a Codogno tranne uno che arriva da Seriate, provincia di Bergamo. Non abbiamo ancora fatto in tempo a ricostruire la storia del ragazzo, ha detto Fontana. Ore 11.54. Altri due italiani a Tenerife. Altri due turisti italiani dell'hotel di Tenerife, isolato ieri, sono risultati positivi al coronavirus. I due nuovi positivi fanno parte di un gruppo in viaggio con il medico Piacentino e la moglie a cui era stato diagnosticato ieri il coronavirus. Bene, queste erano le notizie fino ad oggi che è quasi mezzogiorno, siamo intorno a mezzogiorno. Ovviamente se ci saranno ulteriori sviluppi aprirò un altro breve video ma la speranza è che le notizie siano positive e non queste che ho appena dato perché sono davvero scoraggianti. le notizie che arrivano in merito ai contagiati, ai decessi e al fatto che non si riesce a porre rimedio a questo contagio. Questo era tutto per oggi o perlomeno per il momento e ci sentiamo al prossimo video. Vi abbraccio a tutti. Un bacio a tutti da Gossip.